Si manca l'assessore Vettarino, il quale affideremo la città della conferenza statua di questa ventitresima stagione di leggere per non dimenticare. Ho chiesto a Noane Lincioni di affiancarmi se un altro potrebbe dire con il suo buono spirito, con la sua buona collaborazione, perché so che le bibliotecnici sono un pezzo importante di una storia che si arrastegna e ovviamente insieme ad Anna, c'è il grande lavoro di Noane Lincioni di affiancarmi e di persone che lavorano in un'attività del nostro intervento civico. Ma io vi dico a ringraziare Anna Medelli per questi 23 anni di grande passione che costruirei una storia così importante per Firenze, mi sono arrivato a Firenze quattro anni fa, è una delle prime rasseglie di cui viene. mi è stato raccontato, è proprio una sua, è proprio leggere per non dimenticare, che ha una storia molto radicata e molto forte a livello di presenza culturale a Firenze e ovviamente anche uno di quei momenti della cultura fiorentina che tiene acceso i riflettori sul tema dell'editoria, della professione letteraria e di tutto quello che è il mondo e il patrimonio dell'elettore del nostro Paese. Quindi di questo ringraziamo molto Anna, c'è un appassionato lavoro, il lavoro delle persone poche, fa quasi tutto da sola, ma delle persone che comunque collaborano con lei. Il tema della lettura è un tema assolutamente fondamentale nella politica e culturale di una città come Firenze. nascono enormi volo campi, insomma ogni tanto le rasseglie di letteratura si vedono spuntate, si vedono giovani che si accostano alla produzione di Covid Fest, per cui noi pari i sessi, ma credo che davvero grande esempio sia una rasseglie così radicata, cosa importante, e che nei nostri spazi civici trova la sede giusta per raccontare le tante forme del leggere. Come diceva Umberto Eco, chi non legge a 70 anni ha vissuto una niente sola, chi legge l'ha vissuto circa 5.000 anni di storia. La lettura è una finestra sul mondo che ci permette di vivere, di esserci stati quando Caino ha ucciso la vele o quando Lorenzo ha uccidato, insomma cito due notissimi per dire come la letteratura possa essere davvero un mezzo di racconto, di curiosità e di lettura del mondo attraverso le vite e gli anni che vedete nei nostri amatissimi libri. Sfogliando il programma della ventitresima stagione, che si chiama proprio I valori dei libri, quindi credo di non aver fatto un'introduzione vana e poi lascio adatta nel discorso della stagione, ho trovato davvero tantissimi autori che mi sarebbe piaciuto, se mai si intacore, di dare afferenze, ed è giusto che siano giocatori appassionati e competenti ad avere l'autorevolezza e la capacità di stimolarli e aiutare la nostra città. Parco Ventura. Parco Ventura. Sì. Sfogliando, molti di nostri amatissimi autori presentano i potenti, che ancora non aveva preso la testa, ne avevano dato uno e invece anche cose che si potessero potuto dire a leggere la testa di un'autorevolezza. Infatti, c'è domanda. Perché io la testa di un'autorevolezza, dopo che la persona arrivata, cioè la testa di un'autorevolezza ha fatto piacere anche a me, che mi hanno portato in grado, che è stata una mia scena, e quindi mi ha detto, ma non c'è l'autorevolezza, ma non c'è l'autorevolezza, ma non c'è l'autorevolezza, perché in ultima mese, 23 anni, si è stato così. Lo dico per i giornalisti avete il titolo, la signora Benedetti ha il dono del titolo. Io la ringrazio, la ringrazio, la ringrazio, la ringrazio, la ringrazio, grazie a me per i giorni che ti dà la conferenza e lascio la parola proprio ad Anna Benedetti. Grazie. 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 Grazie a tutti. un nuovo libro di Gabriele Abregno, uscito proprio poche giorni fa in un garazzo di subietto, ovviamente, sei donne in casa con un garzo nuovo, è nata a De Vintese, dicevo, per le scoppie personali di sei donne e sono tutte le scopette a qualche parte delle progetti, citata di una ragazza di un'anima, di un'anima, di un'anima, di un'anima, di un'anima e di un'anima. Adesso, però, l'identità fa parte di una famiglia di parole, radici, tipicità, nazioni, nazionalità, che possono diventare impiede, che sono sempre tante per sottolineare le separazioni, che contengono un potenziale agressivo depositato nelle loro storie e che è come un Dio, che sono molto semplice agli amici. Queste parole, per lì, si possono diventare pietre, che sono sempre tante per sottolineare. Paolo Corchetti, io ho anticipato la mia definizione del Dottore Lo Strega, Paolo Corchetti con l'altra montagna, un romanzo, il ciclo del 13, il 17, che è matto non verso la montagna, a primo luogo, ma che è bellissimo di trame, di legami che sono sempre e di uomini, pieni di mancanze per volete. Ma proprio per questo, reali, vivi, come lo sono, semplicemente racconti, com'è la vita stessa, imperfecita, strana, sorprendente. Salvatore Settis, col bellissimo libro, Architettura e democrazia, paellato in città, diritti civili. In un paesato intenso come teatro della democrazia, l'intervento e l'intervento, può costruire il pieno perciso dei diritti civili, come scommessa sottotitura. Occorre però, e questo è importante, non trappi a vedere i valori estetici in architettura e in urbanistica. Non solo alla voce di un'etica comunitaria, quindi un'adeguata considerazione dei rischi ambientali, ma anche pensando alla relazione tra il corpo del cittadino e il corpo della città, perché questi non devono essere con un altro amici, ma intervarsi e compenetarsi. E poi ti dico che, nel mondo caro, tutti i suoi amici, io, Matteo Munci, è giusto obbedire alla notte. Le vicende di una comunità di personaggi che vivono in una loro ben lontana, nel pasto del centro, bensì lungo l'ansia del fiume Tevere, a pochi metri da una maconda, la trattoria della quale, in uno dei punti di giorni che finisce la sua vita, il protagonista vengono a mangiare con sua vita di terra. Lo chiamano il dottore, ma non è un antico. Ha studiato soltanto per tentare di guarire quello che non si poteva guarire. E arriva un altro mio carissimo amico, Alex Olena, fra poesia e attracchia, storia di camminatore di libertario. Alex Olena, non si fa, 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 non si fa. Lucio D'Emerio, bell'inno, I Gratitudine. L'Igratitudine è un male antico, potremmo dire genetico, e nessuno di noi se ne può dichiarare nessuna. Tutti, prima o poi, persuola la mente, quello che ha avuto il dolore, la sofferenza e lo sconcerto di chi si aspettava di ricevere almeno un grazie, e invece si è sentito calpestato. Comunque, con il sentimento delle riconoscenze, si può lasciare, perché può lasciare, parallela dal cuore all'invide, ognuno di loro. Sembra davvero un programma enorme, con tantissimi autori, protagonisti della scena del trale contemporaneo. grazie, insomma, sembra un lavoro straordinario. Io, prima di passare alle domande, chiederei un intervento al sessore Giovanni Bentadini, che fa con noi. Grazie, Giovanni Bentadini. A prenderlo qua, mi chiedevo, ma che edizione di leggere per noi domenica? E' parte ora, è parte la seconda. Perché ormai è una manifestazione che fa parte integrante, fortunatamente, del panorama cittadino e della sofferenza. Una cosa che si aspetta, cui tutti noi siamo stati, siamo stati coinvolti, e ha comunicato, regalato delle emozioni, perché è chiaro che avere l'opportunità di discutere con gli autori, di sentirli dal vivo, di poter capire anche quali sono i percorsi che hanno seguito nello strutturale loro opere, è molto importante. Il cartellone, se vuol dire, sembra veramente di grandissimo livello, che mette insieme anche un cuore, e devo dire, è una bella, e c'è un bello per non dimenticare che hanno detto che raccontava così bene, non sia quella di dire, non solo e non tanto, il piacere e il gusto letterale, ma anche un'idea civile, per cui quest'idea che diceva Settis, cioè l'estetica come appunto un'idea civile, è un'idea che percorre, quello che stiamo cercando di fare a Firenze, ossia l'idea che la cultura possa essere uno strumento per la città, anche quando la cultura crea discussione, anzi direi, forse soprattutto, quando la cultura crea discussione, il far percorrere i nostri spazi urbani da delle proposte anche nuove, anche un po' dissonanti, anche che appunto sollevano anche l'interrogativo, una cosa che è fondamentale, perché il dibattito cittadino è un dibattito vivace, che sia un dibattito attuale. Vedo tra gli autori, ci sono, va bene, c'è la crema davvero della literatura contemporanea, anche di tante persone che interpretano da un punto di vista del dibattito civile, tra l'altro c'era la Prosperi, ma per esempio, Corrado Sayano, è una persona che davvero rappresenta qualcosa di grande nella storia del giornalismo del nostro paese, della testimonianza politica civile. Poi ci sono anche delle cose, io di recente ho detto Le otto montagne di Paolo Connetti, l'ho trovato con niente, l'ho trovato un libro straordinario, anche appunto perché, come dire, riprense degli stile, ma sono degli stile metà, se ci sono davvero una grande attualità, con una forza, forza incredibile, cioè riesce davvero a esprimere una capacità, che è uno di quelli che quando si inizia a leggere non si riesce più a smettere, ci sono, quindi io ne ho sempre più però, mi sapeva arrivare un po' la freccia, se ti sopasso, e diventa quello il libro che ci rende, Ogni momento libro. Connetti ha scritto davvero da questo punto di vista qualcosa che credo meritasse, questo che credo anche probabilmente, e anche se lo dindomina Leanna Benedetti che è la scritta, che le cose. Bene. grazie ancora Donna per l'impegno e che è una madre di questa persona a cui saremo e a cui teniamo grazie io volevo ricordare sicuramente me lo ricordava Donna Nincioni che per gli incontri della disegna possibile per gli iscritti alla biblioteca prendere in prestito le opere degli scrittori ospiti che noi abbiamo in catalogo e dove non li abbiamo ne abbiamo aggiunti insomma abbiamo in catalogo diversi volumi degli autori che sono presenti in rassegna ed è possibile prenderli in prestito tra l'altro le biblioteche lo ricordo ma è sempre un piacere ricordarlo hanno subito questa positiva estensione di servizio il sindaco ha fatto questo libro tre sabati fa insieme al compatto della direzione e cultura ovviamente per garantire e qui torniamo all'importanza del tema della lettura per garantire che ogni domenica in città sia aperta almeno una biblioteca in servizio quindi davvero anche grazie a iniziative come leggere per la biblioteca mettiamo l'accento e mettiamo e dire attenzione alle nostre biblioteche è un patrimonio unico su scala italiana credenza e misteri davvero una rete di opinione sono andato a Firenze quindi lo dico c'è davvero un patrimonio enorme è un patrimonio pubblico civico ad accesso gratuito dove è costruito il grande sapere della letteratura dei nostri anni grazie mercoledì e questo è il primo del datore il donato Sero è un'attore e questi autori hanno tutti dei presentatori eccetera bene le donne grazie 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 grazie